Halloween fa rima con generosità e divertimento al centro emotrasfusionale dell'azienda ospedaliera Universitaria Senese. Anche nel 2024 si è ripetuta la donazione mostruosa, iniziativa promossa da parte dell'Associazione di Volontariato della Donazione di Sangue della Città e del Territorio che, come ormai da tradizione, ogni 31 ottobre organizzano questo evento di sensibilizzazione sull'importanza della donazione di sangue ed emocomponenti. In particolare, per la donazione mostruosa di Halloween, le associazioni hanno regalato un dolcetto a tutte le persone che si sono recate a donare il sangue abbellendo il cetto con installazioni artistiche a tema vampiri, pipistrelli e sangue. Il ringraziamento della dottoressa Elena Marchini, direttrice del centro emotrasfusionale. La collaborazione e l'amicizia cresce sempre di più, quindi siamo tutti molto 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 felici. Siamo felici di avere i donatori che sono sempre di più e stanno aumentando in maniera esponenziale. Quindi li ringraziamo con tutto il cuore e devo dire che le associazioni di volontariato dei donatori di sangue ci danno una grandissima mano proprio per questa collaborazione che accresce sempre di più la cultura della solidarietà e della donazione. Quindi grazie con tutto il cuore.